Buonasera a tutti, siamo nello spot pubblicitario del mio nuovo film, anzi della mia nuova trilogia. Loro, i tre grandi, non saranno presenti, anzi quattro grandi perché c'è un altro là, non saranno presenti nel film, ma questo è lo spot più grande che si poteva fare perché 27 ottobre, dal 27 ottobre su YouTube sarà la prima data con Non Lasciamoci Cadere, mentre invece dal 7 dicembre la seconda data con Lasciamoci Cadere e la terza il primo gennaio. Solo su YouTube il primo gennaio l'ultima data, ovvero la terza con Cadere, vi aspettiamo tutti su YouTube perché aspettate, lo chiediamo anche a lui. Vero Cortopassi? È una teoria del mestre led. Bravo! Ah Giovanni, dove sei? Solo su YouTube. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501